Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della serie con le mod Nello scorso episodio ci eravamo lasciati che ho fatto crescere un pochettino il mio nuovo drago di ghiaccio Che a proposito ho trovato un nome per lui, è un nome un pochettino buffo, lo vorrei chiamare Eh, chi è che mi attacca? No, non lo vorrei chiamare chi è che mi attacca, c'è qualche drago che mi attacca in distanza Dicevo, lo vorrei tanto chiamare Ice Cream, sì, gelato, perché comunque è un drago di ghiaccio Quindi la neve, il ghiaccio, cioè insomma, secondo me ci può stare Adesso, visto che qua c'è un bellissimo villaggio, io direi di rubare tutto quanto il cibo da questi poveri villici Quindi mi prendo tutto il pane del mondo perché mi sta finendo e io ogni volta che utilizzo le ali Utilizzo tantissimo cibo, il mio personaggio, tipo, gli si esaurisce completamente l'energia E ha bisogno di mangiare quantità di cibo pari a quelle che servirebbero ai Marines americani prima della guerra Quindi evidentemente volare con queste ali consuma troppa, troppa energia Eh, mi raccomando, parlo proprio con voi, se non avete ancora lasciato mi piace a questo video Che cosa state aspettando? Eh, io qua sono, mi raccomando, lasciate mi piace Adesso, eh, ah ma ce l'ho dell'altro cibo, ah ma meno male Perché non mi fa fare il pane? Scusa? Sto sbagliando qualcosa? Non mi fa craftare il pane? No, non mi ha cambiato il crafting del pane, non ha senso Vabbè, al momento utilizziamo queste bistecche, dovrei avere dell'altro cibo qua penso, forse Sì, ok, dei polli, ok, non male Cosa voglio fare in questo episodio? È molto semplice in realtà Adesso che abbiamo un drago di ghiaccio ed è anche abbastanza potente Voglio creare la mia prima corazza di ferro di drago di ghiaccio Quindi una corazza resistente agli attacchi del drago Ed è una corazza totalmente bianca Praticamente è la versione di questa corazza qua, però, di ghiaccio Per farlo però devo, prima di tutto, creare il forno dei draghi E non è una cosa molto semplice, prendiamo delle ossa Perché allora, per farlo mi serve il Dragonforge Ice Core Che si crafta con un cuore di drago di ghiaccio e i blocchi di drago I blocchi di drago sono facili, servono delle stone bricks e poi dei blocchi di scaglie di drago Io sono stupido e quindi ho buttato quasi tutte quante le mie scaglie Dovrei averne un altro po' Ne ho undici, wow, che cosa ci faccio con undici? Niente Baby Fire Dragon, non avevo mai visto un baby drago Quindi cosa dobbiamo fare in questo episodio? Io parto in aria come se fossi Superman Devo trovare degli altri draghi di ghiaccio Oh, eccola, l'animale misterioso Ma in questa valle è pieno, sono dei polli Sono fortissimi, tra l'altro, ragazzi Nello scorso episodio mi stavo quasi uccidendo Muori, muori, muori E muori, stupido pollo Sto uccidendo gli antenati di bella faccia Tranquilli, tra non molto passa Ok Come vi ricevo, devo assolutamente trovare degli altri draghi di ghiaccio Per prendermi le loro scaglie E anche il cuore Perché io, se non sbaglio, non ce l'ho più il cuore di drago di ghiaccio, vero? L'ho buttato, infatti l'ho buttato Perché sono stupido Quindi devo craftare questo gigante forno E poi all'interno del forno Devo mettere Sangue di drago di ghiaccio E Del ferro Ma non finisce qui Dopo il che devo utilizzare il mio drago Il mio drago dovrà sputare del ghiaccio all'interno di questa fornace Per cucinare Questi lingotti Ora, io non ho la minima idea di come possa essere possibile Che con il ghiaccio si cucinino dei lingotti Però evidentemente funziona E quello che cos'è? È tipo un dungeon, mi sa Sì, sì, sì È pieno di dungeon in questa zona Io devo trovare dei ghiacciai Mi servono dei draghi di ghiaccio Dove sono? Ok, questo mi sa proprio che farà il caso nostro Spero soltanto di riuscire a trovare qualche drago di ghiaccio O anche qualche drago morto Che magari ho ucciso in passato Ma Sembrerebbe di no al momento I draghi di ghiaccio sappiamo bene che si possono trovare Uh, là c'è un drago morto di ghiaccio Sicuro Oddio, un'altra torre di ghiaccio Sì, lo so Sto ripetendo la parola ghiaccio Tantissimo Però non posso mica cambiare questa parola con un'altra Oh, aspetta Uccidiamo subito il golem Questa torre, ragazzi, contiene dei loot fantastici Potrei trovare dei libri potentissimi per la mia nuova bacchetta magica Muori Dai, non mi far perdere tempo Sei stupido Ok, abbiamo trovato del... Eh, niente di che in realtà Ma riuscirò a trovare un drago di ghiaccio prima che si fa notte? Dai, su In passato ne ho combattuti a bizzeffe Adesso dove sono? Sono spariti tutti Si sono estinti da un momento all'altro magicamente Ok Abbiamo finalmente trovato un bellissimo drago di ghiaccio Ok, io ti devo combattere Mi dispiace perché sei veramente bello Però... Oh, cavolo che suono Guardate l'aurora boreale Eh, non mi devo fare distrarre Allora, allora, allora Calmi tutti Facciamo molta, molta attenzione Perché ovviamente qua, come avete ben sentito Ci sono Gli angeli di pietra Che mi potrebbero teletrasportare in giro da un momento all'altro Quindi io devo cercare di uccidere il drago senza farmi teletrasportare in giro Dagli angeli di pietra Muori, 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 muori Non dovrebbe avere molta vita rimasta Dai, dai Mi servono le tue scaglie Dammi le tue scaglie e il tuo cuore Ottimo Adesso Allontaniamoci un attimo Diamo un'occhiata alla zona Angeli di pietra nelle vicinanze No, soltanto ragni e scheletri Ok, non male Buttiamo via questo Scendiamo giù in picchiata E prendiamo tutto ciò che ci serve Dammi le tue scaglie, dammi le tue scaglie Ottimo Mi servono E anche il tuo cuore Mi serve il tuo cuore Ok Benissimo Là c'è una tana? Sì, un altro Ok Salve Oh, oh, oh Ma chi? Che cosa? Mi hanno intrappolato Chi è stato? Ragazzi, qualcuno mi ha spinto All'interno di quell'acqua E mi aveva intrappolato là dentro Ero diventato un piccolo ghiacciolo Sei forse stato Tu? È possibile, eh? Ok, lui è più forte Lui decisamente è più forte Però dovremmo riuscire a ucciderlo lo stesso Perché ovviamente soffre tantissimo Con le fiamme della mia spada Mori, mori, mori Bene Ok, ucciso Diamo un'occhiata in giro Angeli di pietra nelle vicinanze No, c'è soltanto questo squarcio bellissimo Con l'aurora boreale È un coso di ghiaccio Una torre di ghiaccio Mori Ok Ora ci prendiamo subito tutto quanto Pa, 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 pa Bene Allora, le teste non ci servono a nulla Quindi le possiamo buttare Ci serve soltanto il cuore E le sue scaglie Cerchiamo di farmarne giusto un altro pochettino Perché non voglio di certo Non avere abbastanza blocchi poi Eh Qua c'è uno di quei dungeon spaventosi Non siamo ancora riusciti ad entrare all'interno di questo dungeon Perché non ho trovato la chiave Però vi assicuro che prima o poi ci entreremo ragazzi Non vedo l'ora Non vedo l'ora proprio di farci un episodio qua dentro Secondo me è spaventoso Perché ho visto alcuni dei mostri che si trovano là dentro E sono veramente fuori di testa No 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 Porca miseria Ci sono troppi angeli di pietra qua nelle vicinanze Via vola 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 Scappa 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 E qua c'è uno squarcio Deve esserci stato tipo un terremoto C'è un drago Un drago dentro la caverna E' un drago 280 di vita Ma aspetta quindi potrebbe dropparmi un uovo Credo che sia un drago di livello 4 280 di vita quasi Sta scavando ovunque Ehi non mi fare finire dentro la lava Non mi fare finire dentro la lava Porca la miseria Sta morendo mi potrebbe dare un uovo Era un drago dormiente delle caverne Vediamo che cosa mi da Dubito mi abbia dato un uovo Però mi ha dato le sue scaglie E mi ha dato il cuore Via via Non ho tempo da perdere con voi Lasciatemi andare Oh che cavolo Va bene mi ammazzo allora Non sapete contro chi vi state mettendo Oh cavolo Un serpente gigante No 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 Scappa scappa Oddio quanto è grosso Mi sta uccidendo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Vieni qua stupido serpente marino Dove pensi di andare eh Pensi di potermi fare tutto quel male E poi andartene via No 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 Combatti ora Oh cavolo oh cavolo oh cavolo Mi uccide Mi uccide Mi uccide Oh scappa scappa Non ci posso credere Sono morto contro un serpente marino Ragazzi se hai riuscito a uccidermi Vuol dire che era estremamente forte Wow Che figuraccia Però allo stesso tempo Oh mio dio Non avevo mai incontrato Un serpente marino così potente Solitamente li uccido In me che non si dica Sono riuscito a trovare Tantissime scaglie Ho preso degli stone bricks Grazie al piccone con silk touch E ho anche otto cuori di drago Quindi credo sia arrivato il momento Di craftare la fornace magica Allora per farlo Come vi dicevo Mi servono I dragon Questi qua ok Quindi mi servono delle scaglie E poi gli stone bricks Per cui Noi adesso cosa facciamo Facciamo subito tutti i blocchi Laggata ok Creiamo questi Ce ne servono molti eh Iniziamo Se non sbaglio era così no? Non era così Com'era? Al contrario Certo Te pareva Una su due E io l'ho sbagliata Così Ok ne abbiamo quattro Molto bene Così E facciamo quante più scaglie possibili Ma io posso usare anche scaglie diverse Di diverso colore? Penso di sì Sì Funziona Fantastico Allora Un due tre Me ne manca un'altra Ce la faccio a farne un'altra? No non ne ho abbastanza Aspetta Ma certo che ne ho abbastanza Io ne ho altre qua Dove sono? Eccole qua Non vanno? Ok se sono di colore diverso non vanno Quindi queste le buttiamo E adesso facciamo con il colore del blu Fantastico E ora gli stone bricks Benissimo Ne abbiamo venti Che dovrebbero bastare Venti sono tanti Dobbiamo mettere questi venti in questo modo E metterci un cuore di drago In questo modo creiamo il cuore della nostra fornace Adesso ci serve l'apertura Quindi quattro di questi più quattro di ferro Va bene anche quelli li abbiamo Così creiamo l'apertura della fornace Et voilà Ecco qua la nostra fornace di drago di ghiaccio Questa qua è l'apertura Dove lui sputerà le sue fiamme O comunque il suo ghiaccio E all'interno c'è il cuore della fornace Metto tutto qua E ora devo richiamare il mio bellissimo draghetto Che ancora non ha un nome Però come vi dicevo L'abbiamo chiamato Ice Cream Lo mettiamo qua E lui adesso è Sì la fornace è di là Vabbè però sta funzionando come vedete Allora se non ti piace Io ti metto qua Esci fuori allo scoperto Ok Oh ragazzi sta funzionando Funzionando Lui sta sputando il suo ghiaccio All'interno della fornace Che adesso cucinerà No Non sta cucinando un bel nulla Vuoi vedere che è perché ancora è troppo piccolo Devo trovargli del cibo Devo farlo crescere Mannaggia non ci posso credere Quindi le sue fiamme non sono ancora potenti abbastanza? Ed eccoci qua Ovviamente ragazzi vi taglio tutto quanto Perché altrimenti sarebbe troppo noioso Farvi vedere che vado alla ricerca delle ossa Che devo cercare la caverna del drago Per prendermi quanto è più ossa possibile Bla 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 Il cibo eccetera eccetera Cavolo mi sta praticamente togliendo tutto il cibo dalla bocca Non ho più cibo io per me Guarda là Però sono finite le ossa Quindi un po' di cibo ce lo possiamo tenere Tiriamo fuori ice cream Vieni qua Adesso mangia Ti devo fare crescere Perché a quanto pare è ancora troppo piccolo Il suo ghiaccio non è forte abbastanza Da bruciare i lingotti Vediamo se ora funziona Eh non va Perché non va? A Smaug non gliene può fregare di meno ragazzi Cioè guardalo Lui è lì che si fa i cavoli suoi È enorme tra l'altro È molto più grosso Del piccolo ice cream Però Boh Perché non funziona? Cioè lui è già di livello alto 339 di vita Vuol dire che Ha già superato lo stadio 3 Quindi le sue Quindi il suo ghiaccio dovrebbe essere forte abbastanza Da bruciare questo E io che pensavo di poter craftare l'armatura No Non ci posso credere Ragazzi fatemi sapere per quale motivo non sta funzionando Così nel prossimo episodio riusciamo a creare anche la nuova armatura Ho rotto il mio drago Si è rotto Però è bellissimo Guardate quanto è bello Lui che sputa sulla fornace È maestoso Beh ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace E consigliatemi qua sotto nei commenti Cosa devo cambiare Per far sì che funzioni Perché c'è qualcosa che non va Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao